un bellissimo rapporto del durato con Elena Pecci che è stato tutto il percorso il cammino anche fatto insieme all'interno del suo museo che è stata la mia casa madre dall'inizio del lavoro fino alla scomparsa di Elena e fino all'ambile mostra del 2012 antologica voluta da lei peraltro è una figura centrale nel sistema dell'arte italiano e anche il rapporto con gli artisti mi ricordo un bellissimo scambio di opinioni fra lei e Toxic quando dipingiamo una serie di opere insieme agli Ettori a quattro mani e di fronte a alcune di queste appunto c'era un bell'incontro fra Elena e Tori e Elena Tori rimase anche in un modo sorpreso nella scelta questa irruzione orale e concettuale di Elena nei confronti di un lavoro o di un'opera dipinta insieme